Campeoni, oggi Matti mi ha portato qui in questo quartiere super figo dove ci sono un sacco di graffiti Guardate che roba, tutto un quartiere fatto in questo modo Ora ovviamente scatteremo qualche foto, faremo qualche video con un nuovo merch Eccolo, vi faccio vedere tutto Ho preso questo watermelon matcha E' dissetante, non sa per niente di matcha Sto scoprendo una passione per il matcha qui in London Noi non ho neanche assaggiato uno buono Oh puoi dire, era buonissimo Non sono abituato a fare colazione senza caffè Io ho bisogno del caffè, sono stato tipo per due ore e mezza addormentato Ci stiamo per addentrare in un mercato un po' particolare Che mercato è nostro? L'Elen Paul Market dove ci sono i ristoranti, i shopping, è tutto coperto Veramente particolare Vi faccio vedere un po' da più vicino Guardate come sono curati i dettagli Da tutto questo stile, a tutta questa galleria Poi letteralmente appena finisce ci sono i grattacieli Uno stacco incredibile Guardate che figo questo negozio Sta cadendo? Sì Ora Matti ha detto che ha una sorpresa per me Quindi sono proprio curioso di vedere dove mi porta Dei garnering L'entrata sembra molto particolare Wow Wow Che poi se ci pensate è una sorpresa sia per me che per voi Perché né io né voi sappiamo dove ci sta portando Matti, quindi sta facendo una sorpresa a tutti noi Wow Mamma mia No Vabbè Mamma mia che bello questo posto ragazzi Guardate qui Siamo immersi tra i grattacieli Immersi tra i grattacieli siamo Ma che roba è Pazzesco Eccolo C'è ancora Cosa c'è ancora Cosa c'è ancora Cosa c'è ancora Cosa c'è ancora Wow c'è il tower bridge Potente Eccolo Ragazzi ma la cosa curiosa è che per salire qui con questa vista Questo posto splendido Non abbiamo speso un pound Zero Siamo arrivati abbiamo preso l'ascensore come avete visto anche voi Ti è piaciuto Grazie Matti Ti ringraziamo tutti per questa experience Matti sta per attraversare per la sua prima volta Tower bridge Perché non è la prima volta Come non è la prima volta Ci siamo passati sotto Non hai attraversato Eh vabbè Andate a vedere il video se ve lo siete persi dove andiamo con un gommone che va fortissimo sotto il tower bridge in giro per london Adesso per la... Che schifo Guarda io la lascio questa scena Sì sì la lascio No Taglia Sì la gente deve sapere come si è venuta No amore no per favore Tra l'altro prima eravamo saluti sulla panchina con una ragazza di fianco L'ho scorreggiata Senza... Non l'ho fatta apposta Mi sono uscita una scorreggina Una scorreggina Una scorreggina Formorosa Però non se ne accorta Non se ne accorta Ma ha fatto tutto Poi dice vuoi scorreggiato Luca è desca Luca è desca Che bello Guardate amici quanto è potente quanto è imponente E' quello Tu mi hai fatto stoppare il mio vlog per fare questa manata Certo no Qui No era qui Ecco la mia vacanza Tu è incredibile Baby Wow Wow Baby Wow baby Così vai Facci vedere Vai Muovi quei capelli amore Amore ma ti sembra una foto decente? Ma vuoi mettermi in primo piano? Amore perché la vera bellezza sei tu No amore il Tower Bridge è la vera bellezza Mi lascia qui a Londra ho già capito Che bello ho fatto Ancora amore Abbiamo fatto 10.000 Abbiamo fatto letteralmente La vista è la stessa Ragazzi il metodo quello di urlare mentre fare foto non ha funzionato Bello il Tower eh Bello Veramente bello il Tower Come valutate? Come valutate quest'occhialata Eh? Nel centro di London Proprio se vi è piaciuto l'occhialata Eh? Spacca E voglio In serbo qualcosa di davvero ma davvero assurdo Finalmente riesco ad uscire solo con la t-shirt Sono le sei Ma fa caldo Si sta bene Guardate qui Ecco le margherite Stiamo andando in un ristorante molto particolare Non so neanche come spiegarvi l'esperienza che andremo a fare Quindi lascerò parlare il video Guardate quanto bella stasera Questo vento ha tre capelli Guardate Ma che pulizia elegante Ok stiamo entrando amici Capeone di tutto il mondo Hello Ciao 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 Cosa vuol dire Che per farti piacere il pesce Dobbiamo venire in questi posti qua così luxuri eh Buon amici Buon amici Buon amici Mamma mia capeone questo sembra veramente potente questa carnazza Com'è? Ho ancora assaggiato Ho ancora assaggiato Come manci? Il mio sogno si sta realizzando Qual è il tuo sogno? Mangiare le petitions Ma si è realizzato? Eh no manca il dolce Eh no manca il dolce È arrivato il momento del dolce Stanno preparando Dio mio Pizza piranha Per te ce la fa Hello me Ora faccio il cheesecake Ma? Yeah Oh oh Wow Perché c'è lo shop italiano che dice Matti, è stupido? Mi porco C'è Luciano che parla italiano Pazzesco Matilde, sembra stupido Ma è intelligente, ne sa un po' Let's go, wow Finalmente proverò Il matcha giapponese di Giuseppe Non so se lo state notando Ma in questi giorni io sto bevendo Mangiando matcha ogni giorno È buono, è buono È buono Abbiamo fatto la votazione dei quattro cuochi, dei quattro chef E chi ha vinto? Luciano L'Italia Dovevi praticamente applaudire e urlare ogni volta che dicevano Il nome dello chef E io ho urlato tantissimo, amici